Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita a Desio in un bellissimo bilocale arredato. Ingresso su ampio e luminoso soggiorno. Uscita su balcone con vista sul verde cittadino. Cucina separata con porta-finestra. Comodo disimpegno con armagliatura. Bagno, completo di arredi sanitari e vasca con paraschizzi. Spaziosa camera da letto. Per tutti i dettagli su questo immobile puoi visitare il sito www.desio.soloaffitti.it Per maggiori informazioni sulla cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.